Allora, al caldo ho preso questi, era un'offerta 3 e qualcosa, mi ricordo, la lacca, questo qui, troppo bello, troppo buono, al cocco, fabuloso al cocco, profumo buonissimo. Poi ho preso la gelatina per gli uomini, ho preso questo rossetto qui, questo color nude qui, poi vi metterò lo swatch magari nelle storie o su Instagram, vediamo. E' il numero, questo, numero 03 matt, di quelli matt, 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 questa linea qui, e poi ho preso questo pennarello che è per le sopracciglia, e c'è scritto semi permanente, ha tirato la mia attenzione per quello. E niente, lo voglio provare, non guardate le mie unghie che c'ho da farmele oggi, me le sono tolte tutto lo smalto vecchio, e lo voglio provare. Penso sia una novità di Essence, perché non l'avevo mai visto questo, e non ho speso nemmeno tanto, non mi ricordo, ma costa sui 3 euro o qualcosa del genere. Vabbè, passiamo alla spesa, è se lunga, è se lunga qui. La pasta qui, la garofalo, integra. Ho preso due di questi qui, parmigiano reggiano, se lo provo, lo proviamo dopo. Ho preso questo, che è la confezione in offerta di due pezzi di prosciutto cotto. Una gresaola, che a me piace davvero la gresaola. Un'insalata mista. Ecco quell'altro pezzo del parmigiano. Questa ammesca qui, che è integrale, è questa qui che la va al verde. No, del verde, mi sbaglio sempre. È buonissima, se non l'avete provata, provate, la ricetta è proprio buona. Tagliate all'amido, integrale sempre. Poi ho preso le carote, ho preso una bottiglia di questo, questo sugo qui. Due di questi qui, per farlo di sotto, veloce e veloce, perché ora, siccome già mi bisogna 5, oggi faccio questo, perché è troppo tardi. E poi questo sugo qui, che era un'offerta dell'ascilio, pomodoro del campo classico. Ho preso due di questi focacce alle noci. Miammi, queste qui mi piacciono. Mi piacciono un casino. L'unica cosa è che le fanno un po' troppo unte. Però, però, sono buonissime, buonissime. Poi ho preso queste due qui, che sono due fotolette, come si chiama queste? Sì, alla milanese, già bello e pronto da mettere in forno alla svelta e via. Niente, la mia spesa di oggi era qui, qui ci sono le medicine, quindi niente. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, bimbe. Allora, spesa Eurospi. Vediamo cosa ho comprato. No, mi hanno interruttato un senso rumore. Poi c'è questo qui. Ma no, che noioso, noioso, lui, 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 è noioso. Vabbè, vi faccio vedere, dai. Alla svelta, che tardi, presto che tardi. Le varine. Pacchetto. Queste banane qua, che, cioè, noi andiamo avanti a banane praticamente. La banana al giorno, toglie il medico di torno, si spera. Poi, le gallette di mais, mi pare. Sì, di mais. Poi ho preso al banco l'insalata di pollo già pronta, ma proprio poca per sentire come la fanno. Perché ho visto c'era la cipolla, mi ha fatto gola, ecco. Ho detto, la voglio assaggiare. Mi fai vedere quanto me l'ha messa. Cazzarola, 3 euro questo cosino qui. Vabbè. Vedrai che me la foda meglio, comunque. Tanto me la faccio sempre da me, però, ma non lo so, mi ha fatto gola. Poi ho preso 3 bistecche da fare ferri alla svelta. Questo, formaggio a fettine provola. Gelatini misti. Io non le mangio mai, eh. Quasi mai. Mi marito, ogni tanto, mi figliolo. Questi, che sono le prostatine, che la mattina ci vanno queste. Poi, queste qui, che sono la fitta secca, mi stanno a mettere, a mettere l'insalata, insomma. Poi ho preso il pollo alla diavola, che tra l'altro è stato comodo perché arriva il mio figlio alla cozza a mangiare, cioè, ora è mezzogiorno, a mezzogiorno e un quarto arriva, non c'avano ancora nulla di pronto, meno male che ho preso quello. E poi ho preso questo integrale, poi ho preso un avocado, uno perché, vi spiego subito, è anche piccolo, perché quell'altro erano no duri, di più. E quindi io ho detto, ma insomma, volevo mangiarlo stasera. No, ecco, mi sono scodata il più e il meglio. Vabbè, insomma, l'avocado. Poi ho preso, metterò il tonno, poi ho preso questo qui con di riso, che era un'offerta, mi ho presi due, mi pare, sì, mi ho presi due. Poi ho preso, infatti, il riso integrale perché voglio fare l'insalata di riso. Poi ho preso degli altri gelatini, che ho preso questi, stecco quattro Big Boss, questi qui con tutto lo variegato dentro. I pomodorini, questi siciliani, un'altra confezione di gallette, ma queste sono ai cinque cereali. Poi ho preso il succo 100% tropicale, ho visto che qui non c'è lo zucchero, almeno, guarda l'avrei visto con certo. Poi ho preso il misto per fare il soffitto già bello e pronto. Ho preso il tonno, una scatoletta di tonno, questo qui, all'olio d'oliva. Ho preso le piadine, all'olio d'oliva, anche queste. Perché la sera magari si fa anche con le piadine. Allora, poi ho preso questo, oddio, domani è lo yogurt, alla soia. Perché voi cercavo quello senza lottosio, che ce l'hanno all'aerospin, ma ce l'hanno solo tre gusti, caffè, bianco e un altro gusto che non mi piacciono. Non ci piacciono a nessuno, quindi ho detto, ma prendiamole alla soia. C'è scritto a basso contenuto i grassi saturi. E quindi ho preso questo qui, che è al frutto e cereali. E poi ho preso anche queste, ai miei fili, che meno manierò io, perché tanto a casa mia non lo vogliono. E poi ho preso due avocado. Anche questi, però, questi ne ho presi due, ma sono un po' più grossi, eh. Però anche questo, uno è duro. E quell'altro un pochino più maturo. No, avocado, scusate, ho sbagliato. Due mango. Ecco, l'avocado l'avevo preso prima. Mango. Due mango. E poi ho preso il pepe, pepe bianco perché quello rosso, quello nero non c'era. E volevo anche l'aglio così macinato, ma non l'ho trovato. E poi ho preso i crackers, e anche questi ho preso il riso perché li volevo integrali e non li ho trovati, non c'erano. Poi ho preso quest'acqua qua, bottigline, e questa qui più grossa. La spesa è finita, andate in pace. Ciao, a presto.